Mi raccomando signori, continuate con i mi piace, continuate a supportare la serie e continuate a supportare il mio lavoro perché ragazzi vi sto portando un episodio al giorno, quindi mi aspetto tanto supporto, mi raccomando, almeno 8000 mi piace Salve tutti ragazzi, sono sempre Momenza e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo tornati qui con un nuovo episodio della carriera datore con la nostra e la vostra Inter Ovviamente signori vi ricordo che sta uscendo un episodio al giorno, quindi se vi siete persi i precedenti andate a recuperarli li trovate sul canale, anche se magari non avete visto l'episodio precedente vi ricordo che ci tengo al supporto vostro quindi mi raccomando magari andate ad aprire il video, guardatelo, datemi dei consigli, lasciate un bel mi piace anche se magari non avete tempo per guardarlo, tutto quanto, vi ringrazio come detto nel supporto nello scorso video abbiamo visto veramente delle parete interessanti, è stato un episodio veramente da infarto non mi ero accorto che lo Slavia Praga aveva pareggiato con il Barcellona Inoltre raga, seguo sempre i vostri consigli e oltre a mettere Lautaro Martinez da questo lato ho cambiato anche un paio di tattiche Allora, ho messo il pressing una volta persa palla perché effettivamente avevo prima il pressing costante e i miei giocatori facevano un po' fatica quindi vediamo con il pressing una volta persa palla come va Inoltre ho dato a Barella l'istruzione delle intercettazioni aggressive a Senzia Brozovic moderate e a Skriniar aggressive così voglio vedere se riesco a stare un pochettino più in pressione sul nostro avversario Vediamo, sono prove che vorrei capire come funzionano anche perché difensivamente anche il centrocampo sta facendo un po' di fatica nella fase difensiva Bene signori, io direi non perdere l'altro tempo andiamo a fare la conferenza preparata per questa partita dei Champions contro lo Slavia Praga Oggi vedremo Slavia Praga, Juventus, un'altra partita non mi ricordo quale, il Barcellona quindi anche l'episodio di oggi sarà spettacolare Vediamo se ci rompono le palle di nuovo per Tarkovski Uh, no, per fortuna La squadra riuscirà a bissare il successo all'esordio in Champions League Attenzione, raga Dobbiamo assolutamente rimanere concentrati perché se lo Slavia Praga ha tolto dei punti al Barcellona c'è qualcosa di importante in quella squadra e noi abbiamo comunque segnato all'ultimo minuto contro il Borussia Dortmund quindi ci sarà da lavorare Hai in mente nuove strategie per la prossima partita? Calcio spettacolo Però sì, neanche farlo apposto abbiamo cambiato un attimo le tattiche per questo match Un altro ragazzo mi aveva detto di mettere il trequartista invece dei tre centrocampisti così Fabian Ruiz sarebbe stato un pochettino più a suo agio forse però secondo me Fabian Ruiz si comporta bene da mezzala mentre col trequartista secondo me saremo un po' troppo offensivi riuscirete a dare seguito alle ottime prestazioni offerte alla squadra di recente? Possiamo fare ancora meglio ragazzi assolutamente e andrei così ragazzi con questa formazione titolare Sensi e Barella coppia di centrocampisti andiamo in campo dunque sempre sul pezzo e forza Inter dai ragazzi spingete con il mi piace mi raccomando perché ci tengo veramente ma veramente tanto attenzione ad Asamoah che spinge sulla fascia va come un tremo quadro Asamoah va fino in fondo Asamoah la può mettere in mezzo dove c'è libero Lukaku che si tuffa di testa fosse stato così facile anche nella realtà siamo 1-0 signori dopo 5 minuti tutto merito di Asamoah che recupera un buon pallone brucia il suo avversario la mette in mezzo in maniera precisa e poi Lukaku non può fare altro che spingerla in rete Asamoah veramente veramente molto bene la difesa dello Slavia Praga invece è molto molto male Lukaku non può chiaramente sbagliare rispondo ragazzi a tutti quelli che nei commenti mi dicono dal gameplay dai tuoi video sembra che il gioco sia facile io ragazzi vi giuro che anche se nello scorso episodio ho vinto tutte le partite si faccio realmente molta fatica adesso non so come sarà questa partita siamo a pareti molto forte però vi giuro che difensivamente io faccio fatica bisogna restare molto concentrati bisogna girare molto il pallone attenzione a Sensi prova una finta perde il pallone ancora Barella fa la stessa cosa che ha fatto Asamoah in precedenza Barella può metterla in mezzo arriva incredibile ragazzi identico ma dall'altro lato difesa dello Slavia Praga che soffre tantissimo queste azioni grazie a Barella e grazie alla Toro Martinez riusciamo a raddoppiare dopo 17 minuti siamo sul 2 a 0 sicuramente uno Slavia Praga che non è lo stesso che ha bloccato il il Barcellona qui nuovamente la difesa si fa prendere in controtempo da queste avanzate veloci sulla fascia e le nostre due punte sono molto attente che partenza di episodio Otano Martinez di nuovo larga per Antonio Candreva che può metterla in mezzo pulita arriva Sensi che colpisce di testa la schiaccia troppo Kolar riesce a bloccarla facilmente bravissimo Tarkovski con il numero 15 raga il numero che dovrebbe avere in nazionale nel caso ci giocasse attenzione però qui a difesa Van Buren De Vrij De Vrij mi fai venire i brividi De Vrij sì ancora Stefanone e poi per Stefanino attenzione alla partenza di Lukaku proviamo a servirlo ecco l'ho servito la palla è un po' lunga ma Lukaku è veloce è rapido può farmi dire le parolacce Esposito subito a gestire il pallone la serve a Fabian la mette in mezzo Fabian la schiacciata De D'Ambrosio sembrava il gol fatto contro la Lazio signori mamma mia stavamo per replicare la realtà Sensi per Esposito avanza Esposito e può giocarla benissimo perché Andreeva si passa dalle parti di Lautaro Martínez di prima attenzione per Esposito traversa di Esposito che ha l'esordio in Champions League si presenta così con una traversa clamorosa ancora tremando sticcate la Inca per favore Tarkovski solo tu puoi farlo bravo bravo Tarkovski e finisce qui signori l'Inter batte lo Slavia Praga per 2 a 0 e si riconferma in testa al girone signori 6 punti per noi e adesso signori siamo primi in classifica non me ne ero accorto però questa partita contro il Piemonte Calcio anche detto Juventus è fondamentale perché la Juventus comunque è sesta a 11 punti siamo vicini il campionato è iniziato da poco quindi ci sta ci sono tutti i presupposti per lottare per il titolo in Serie A ma la realtà ragazzi si sta praticamente impossessando di questo gioco pensi di dare continuità a questi risultati con la rosa di cui dispone tutti i giocatori devono farlo a loro parte senza nessun dubbio non potevamo sperare una partenza migliore fin qui siamo stati fantastici manager oggi ho scritto manager solitamente ho scritto menzolini non so cosa è successo mi hanno declassato praticamente e ci vado anche un po' strafottente per questa partita perché metto Melendo al posto di Asamoah e Lazaro al posto di Candreva sì perché sono leggermente offensivo con questa formazione tra l'altro Melendo mi fa benissimo sia la fascia sinistra che la fascia destra potrebbe essere un grandissimo jolly ed ecco l'undici della Juventus signori Scesni Alessandro Bonucci Rugani e Aspiliqueta a chiudere la linea difensiva centrocampo a tre con Chedira Ramsey e Matuidi attacco a tre con Beltrame Martial e Dybala Beltrame ma è Cristiano Ronaldo Tarocco è un altro giocatore non ho capito Martial ha la battuta attenzione a Godin riesce a metterla fuori senza troppi problemi poi a Spiliqueta la rigioca a Rugani continua a salire la Juventus ancora Spiliqueta ma c'è Skriniar che anticipa il tentativo di tiro di Martial perdiamo una bruttissima palla ma riusciamo a ripartire lo stesso con Barella che serve Melendo può correre sulla fascia sinistra Melendo c'è Matuidi che non segue ma Melendo è molto più veloce Melendo può metterla in mezzo arriva Lukaku un po' in ritardo e Skrini riesce a uscire agevolmente ma bene Melendo Lazaro non c'è spazio proviamo a servire Fabian tra le linee Fabian torna da Lazaro col destro Lazaro la palla gli è rimasta un po' dietro Lukaku di prima attenzione per Melendo palla così così Melendo può correre in seguito da Spiliqueta decide di rientrare servire a Lukaku attenzione all'inserimento di Lautaro Martinez perfetto il pallone Lautaro Martinez ci prova col mancino addosso a Skrini arriva poi Nicola Barella a rispedirla in rete non può arrivarci sulla ribattuta Skrini Barella è lì sul pezzo a buttarla dentro signori l'Inter è in vantaggio l'Inter è in vantaggio rivediamo qui molto rapidi bravo Lautaro Martinez Skrini para la rispita non è un gran che e poi il portiere polacco viene preso un po' in controtempo perché vedete si sta spostando sulla sua sinistra forse poteva fare meglio forse poteva fare meglio però come detto è stato preso in controtempo forse è per quello che non è riuscito a intervenire Beltrame torna indietro dove c'è Matuidi esce Lukaku attenzione a Ramsey ancora Aaron Ramsey se ne va con una finta ma come detto Godin ci mette il piedino fa partire Melendo si perde un attimo il pallone ma poi riesce a servirlo a Lukaku che fa la sponda Lazaro Alexandro insegue ma Lazaro è più veloce la può mettere in mezzo indietro la palla è retrata per Brozovic inserimento di Barella Barella colpisce in pieno Scesni finirci con il primo tempo raga finirci con il primo tempo signori come nella realtà l'Inter un pochettino si sta aggrappando alle doti difensive riesco nell'ultimo frangente a difendermi bene attenzione qui urca minghina Martial che legna ha ribaltato Andanovic fate voi qui abbiamo provato a chiudere gli spazi Martial ha tirato una saccagnata e Andanovic col naso rotto poi esulta giustamente anche attenzione allo sbaglio di Alexandro si può tornare subito da Lukaku la gioca Lautaro Martinez attenzione Lautaro Martinez provo una finta si fa vedere adesso Melendo servito Melendo 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 entra in area Melendo col mancino Melendo Shesny la lascia lì la palla è ancora lì Fabian Ruiz Fabian Ruiz in rovesciata così Fabian Ruiz 2 a 0 ho rotto tutto ho rotto fa lo stesso ho rotto tutto fa lo stesso mamma mia Melendo la saccagnata Shesny non la tiene poi ribattuta e Fabian Ruiz e Fabian Ruiz così in rovesciata mi ha gasato ragazzi anche qui forse Lautaro Martinez in fuorigioco però non ci sarebbe mai arrivato nessuno credo non so sapete se fatemelo sapere voi magari sotto nei commenti se quello può essere fuorigioco di Lautaro Martinez andiamo a rivedere un attimo momento del tocco sicuramente Lautaro Martinez è in fuorigioco e su questo non ci piove poi però la palla è indirizzata verso la porta lui si abbassa ma nessuno poteva intervenire secondo me non lo so ragazzi sapete non so com'è la regola da questo punto di vista Barella torna da Melendo che sta disputando una partita veramente veramente incredibile Melendo 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 Mamma mia la recupera poi la palla resta di Melendo Shesny mamma mia un furetto Melendo Cribbio e l'arbitro fischia la fine della partita l'Inter vate 2 a 0 il Piemonte Calcio barra Juventus con un'ottima prestazione di squadra la linea difensiva nonostante io comunque faccia fatica a difendere perché faccio molta fatica riesco a recuperare grazie agli ottimi calciatori che mi ritrovo voglio andare a rivedere ragazzi il gol di Fabian Ruiz voglio rivedere la sua rovesciata la palla resta lì cioè ma raga questa è una bella rovesciata comunque cioè adesso non è proprio di 90 gradi però guardala lì è bella una semi rovesciata pulita questa è una bella semi rovesciata pulita pulita perfetto signori siamo pronti per la partita contro il Sassuolo che è terza in classifica facciamo un po' di turnover signori formazione fatta dunque Andanovic Skriniar Tarkovski Indica Melendo sulla sinistra Candreva sulla destra Sensi Brozovic Evesino i centrocampisti Lukaku accompagnato da Politano che gioca contro la sua ex squadra andiamo in campo signori sempre sul pezzo ovviamente forza Inter dai Laga ci dobbiamo preparare per questa partita ma soprattutto ci dobbiamo preparare è inevitabile che la testa sia un pochettino al Barcellona Candreva Politano bella la palla per Vessino attenzione a Lukaku la protegge Lukaku fa partire Melendo che può metterla in mezzo la palla ritorna a Melendo consigli la para che peccato quest'ultima occasione potevamo far meglio siamo ancora sullo sullo 0-0 però non è una partita troppo spettacolare sensi andare a Melendo di prima intenzione per Lukaku attenzione Lukaku Lukaku davanti a consigli Lukaku col mancino la spaccata sta porta la spaccata sta porta la spaccata signori 1-0 Inter la sblocchiamo al 53 raga credevo fosse quasi impossibile bravo Melendo di prima intenzione poi Lukaku col suo piedone riesce a incrociarla a sufficienza consigli che gli vuoi dia consigli quando ti trovi una sbombardata così da pochi metri signor Duncan indica prova a riprendere posizione c'è ancora Giuri ci regalano il pallone poi indica la lascia lì ma c'è Melendo che prova a chiudere ce la fa in qualche modo qualche difficoltà per Melendo ma è riuscito in maniera efficace a tenere il pallone lontano e sino si ripropone di nuovo Oscar Melendo che sta correndo veramente tanto cambio gioco per Candreva di prima intenzione per Politano in qualche modo l'Inter Politano Vecino ritorna Politano servizio perfetto palo di Politano e poi Mattias Vecino firma il 2 a 0 minchia raga però cioè adesso parliamoci chiaro che azione è stata che azione è stata questa spettacolo puro Politano prende il pallo interno la palla arriva dove c'è Vecino metto Melendo come mezzala faccio entrare D'Ambrosio faccio entrare Esposito al posto di Lukaku il prossimo ad entrare sarà Agume D'Ambrosio palla per Melendo è bella per Esposito 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 la parata consigli raga potevo metterla in mezzo per Politano volevo far segnare Esposito lo ammetto lo ammetto raga volevo far segnare Esposito grande parata di consigli raga finisce qui signori l'Inter battle 2-0 anche il Sassuolo e ci siamo e ci siamo anche con le seconde linee signori ci siamo veramente veramente una prestazione positiva quest'oggi un Sassuolo niente di che anche qui non ricordo azioni particolarmente pericolose si Sensino Sensino sale al 78 e quindi dalla prossima volta si può cambiare allenamento penso che andrò su Barella qui abbiamo Lautaro Martinez grazie per tutte le presenze della titolare che mi sta concedendo mister farò del mio meglio per non deluderla non montarti la testa apprezzo il tuo impegno vederti lavorare sodo mi riempie d'orgoglio continua così e in futuro ci sarà sempre più spazio per te attenzione Andika credevo sarei stato ceduto invece ha deciso di darmi una chance grazie per avermi permesso di farle vedere quanto valgo mister decisamente credo in te decisamente credo in te ho sempre creduto in te continua così io diventerei un titolare fisso in poco tempo signori è la verità dobbiamo anche farlo crescere questo è vero dobbiamo anche allenarlo vediamo un po' se riusciamo a riconfermarci di nuovo dobbiamo evitare le desattenzioni purtroppo ragazzi le domande sono un po' troppo simili quindi perdonatemi se ve le ho alcune tagliate io direi che possiamo andare in campo con la partita contro il Barcellona quindi questa signori per questa partita è la formazione titolare andiamo in campo dunque sempre sul pezzo e forza Inter sono agitatissimo per questa partita contro il Barcellona sono sincero anche perché devo capire se questo 3-5-2 può essere realmente il nostro punto di forza anche contro queste squadre ecco l'undici del Barcellona signori ho visto nomi importanti Ter Stegen Firpo Alderweire L'Engle Usai Vuskas Vidal De Jong Messi Dembele Suarez Suarez De Jong se ne va a Barella e anche a De Vra chi era? Godin ma chi è che mi chiama? minchia raga miracolo di Andanovic no vabbè che parata è questa? De Jong se ne era andato a Barella a Godin se ne era andato a tutti quanti Fabian Ruiz di prima intenzione per Lazaro rientra fa fuori Firpo Lazaro col mancino non è il suo piede centrale per Marc-Andre Ter Stegen bella sta ripartenza del Barcellona e mo? come si fa? attendiamo un attimo torna Godin per fortuna raga siamo mossi bene con l'area difensiva non sono uscito con Skriner però sarebbe stato un disastro ma le ripartenze del Barcellona sono faticose da gestire Fabian Lazaro c'è Lukaku in buona posizione l'Engley su di lui Lukaku prova il mancino a giro non era male come idea non è preciso il belga però l'Engley aveva lasciato veramente tanto spazio mamma mia che brutto tiro attenzione a Suarez messi col mancino Andanovic la smanaccia e c'è Lazaro in copertura c'è spazio sempre per Busquets Brozovic davanti alla difesa per cercare di far filtro Busquets ancora Brozovic se in qualche modo prova a fermarlo Busquets passa ma ancora De Vrij col corpo mamma mia ragazzi poi Lukaku lancia Lautaro Martinez ci deve essere un taglio anche dall'altro lato eccolo che arriva Lautaro Martinez Fabian si torna da Lazaro arriva Lukaku c'è spazio per il belga col destro Ter Stegen e questo ragazzi vuol dire avere i grandi portieri che anche quando subiscono poche azioni riescono comunque a a restare concentrati a restare sul pezzo di salvare la propria squadra Barella larga per Lazaro non c'è spazio non c'è spazio si chiude bene il Barcellona si riparte Brozovic Lautaro Melendo di prima intenzione per Asamoah in mezzo però non arriva nessuno arriva adesso Barella servito Barella che occasione per Barella io non so come l'ha presa col mento veramente una porcheria veramente una porcheria fuori Lazaro dentro D'Ambrosio oh raga io me la sento così dentro Esposito al posto di Lokaku attenzione a Firpo la mette in mezzo Screniar così in semi rovesciata Lautaro prova a prendere il pallone l'ingledi fisico poi Rakitic qualcuno che esca Rakitic a giro Andanovic ci salva appena entrati nel recupero signori Andanovic la toglie da là da là ottima parata del nostro capitano Esposito vince un gran oh oh mi fai Anna mi fai giocare Esposito oh fra se ne stava per andare vai giusto così ragazzi giusto per tenere il pallone alto finisce qui signori finisce qui non potevamo chiedere di più siamo stati anche molto pericolosi dalla parte di Ter Stegen ma questo è un Barcellona superiore questo è un Barcellona superiore non potevamo permetterci di di essere troppo sbilanciati siamo rimasti abbastanza chiusi in alcuni frangenti e abbiamo permesso nonostante questo molto 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 raga comunque siamo a 7 punti raga mi raccomando ragazzi se ancora non avete lasciato mi piace cliccate sul pollicione in su per supportare la serie ok si parla di De Vrij giudico la sua prestazione anche oggi ragazzi positivissima lo 00 era il vostro obiettivo fin dall'inizio no ma allora risultato inaccettabile direi di no ci potrebbe stare anche la risposta il calcio è come gli scacchi io andrei a dire la difesa ha risposto un'ottima partita diamo merito alla difesa detto questo signori io vi saluto spero vivamente che questo episodio vi sia piaciuto è stato un episodio positivo anche questo fatemi sapere cosa ne pensate del video di oggi mi raccomando lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo domani alle 10.30 per l'episodio domenicale come ogni volta come ogni settimana noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi lasciate un mi piace un commento consiglio alla prossima ciao a tutti ragazzi